Il generatore di aria calda indiretto MasterMod BV170E rappresenta una soluzione avanzata e affidabile per il riscaldamento di ampie aree, come officine, cantieri, serre, garage e allevamenti. Questo apparecchio, progettato e realizzato in Italia, garantisce prestazioni di alto livello, unendo efficienza e sicurezza. La sua struttura robusta e la sua capacità di generare aria calda in modo indiretto lo rendono particolarmente adatto per ambienti in cui la qualità dell'aria è di primaria importanza. Al centro del design vi è il tubo camino per l'uscita dei fumi, una caratteristica che distingue questo modello. I fumi vengono espulsi separatamente dall'aria calda, garantendo così un riscaldamento più pulito e sicuro. La funzionalità di canalizzazione della bocca di uscita aria è un altro aspetto tecnico di rilievo. Questo permette una distribuzione più efficace e mirata del calore, rendendo il BV170 estremamente versatile e adatto a un'ampia varietà di applicazioni professionali.